stelle nascenti una rubrica musicale a cura di luca vans buongiorno 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 allora volete sapere chi intervisteremo oggi beh questa volta si cambia genere infatti l'ospite di oggi arriva dal rap italiano ma non roba tipo gali sferre basta dpg ma ragazzi il primo rap tipo articolo 31 ok quel tipo di rap e a rappresentare questo spirito e maruccia piersante ciao piersante ciao buongiorno buongiorno luca io adesso ho nominato gli articoli 31 ma c'è qualche gruppo in particolare cui ti ispiri diciamo che io più che dal rap vengo dalla musica regga essendo salentino ho iniziato con l'ascoltare la musica regga dei system e poi da lì c'è stato un processo di evoluzione del mio mondo musicale dove ho iniziato ad inserire anche altri generi come appunto il rap pian piano mi sono avvicinato anche ad altri generi ma tutto quello che ho cercato di fare si avvicina sempre molto alla musica pop e cerca di essere sempre più originale possibile insomma sempre comunque come cantante assolutamente l'altra cosa che volevo sapere nel testo del tuo ultimo singolo scopriamo che oltre alla passione per la musica avevi anche un'altra grande passione che era quella diventare un attore porno diciamo che ogni tanto nei testi si può dire qualche qualche piccola bugia è stata una frase che ho inserito così di getto perché diciamo in generale il sogno di tutti gli uomini di fare gli attori porno però sostanzialmente la mia vera passione che ho avuto sempre fin da bambino era quella di fare musica beh casomai andasse male con la musica però come dico nel testo dicevi fidati non fa per me quindi devo vedere un po' so che in questo testo c'è anche molto di vero e personale assolutamente questo è un testo che reputo molto molto autobiografico all'interno ho raccontato delle esperienze che mi sono realmente accadute all'interno del mondo della musica come ad esempio il fatto che mi volevano far cambiare nome che mi volevano far cambiare genere mentre io quello che ho provato sempre a fare è avere un'idea seguirla fino in fondo e rimanere quello che sono sempre stato bello allora ci sono progetti futuri per spettacoli o nuovi ep beh nel futuro sicuramente lavoreremo e stiamo già lavorando a qualcosa di più grande che vada a contenere più singoli come ad esempio un ep o addirittura un album però adesso insieme alla mia etichetta cdf records siamo molto molto concentrati sul promuovere questo brano fatti un giro che è uscito da poco allora adesso mandiamo in onda fatti un giro ciao pier sante grazie di essere stato con noi ciao luca grazie a voi volevano cambiarmi pure il nome hanno provato a dirmi come scrivere le stroppe dicevano che il reggae se non me ne cerca trove io non ho mai pagato neanche per la sala prove più mi guardo in giro più metto i tappi all'orecchie se non sono il tipo che lascia le porte aperte sarà che il destino lo aspetto nelle coperte non filmo le copie perché filmo sulle tette non cambio modi neanche per un giorno dicevo adesso fidati di me io sognavamo di cambiare il mondo schiacciare tutti come le no james volevo essere una star del porno dicevo i fidati non fa per te fa tanto il mondo gira gira intorno e fatti un giro sul mio crazy dance se vuoi fare rap devi essere più gangsta se vuoi fare drag devi essere più rasta poi col primo disco dici minchia roba tosta ora col secondo chiedi frate quanto costa avevo una ragazza mi ha piantato su whatsapp ed anche se non canta adesso sei piena di fans non chiedetemi il nome non chiedermi come fa come il napoleone lotta per la libertà più mi guardo in giro più tengo le chiappe estrente e sai non sono il tipo che lascia le cosce perde e non era destino dicevi tra le coperte tua madre minoria vorrebbe ingaggiare dexter non cambio modi neanche per un giorno dicevo adesso fidati di me bisognavamo di cambiare il mondo schiacciare tutti come le no james volevo essere una star del porno dicevi fidati non fa per te fa tanto il mondo gira gira intorno e fate un giro sul mio crazy dance sta roba non si ascolta sto nome se non sfonda ci faremo sentire sarà per un'altra volta sta roba non si tocca sto nome non si tocca la tua tipa mi ascolta di nascosta e poi si tocca adesso voglio tutti quanti con le mani in aria a tempo sopra il beat muovi i piedi come zaza non ti batte il cucchiaio con le bocche e te va in china e l'olio ci ci butta tutto il calendario in aria non cambio modi neanche per un giorno dicevo adesso fidati di me noi sognavamo di cambiare il mondo schiacciare tutti come le no james volevo essere una star del porno dicevi fidati non fa per te fa tanto il mondo gira gira intorno e fate un giro sul mio crazy dance 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 Avete ascoltato Stelle Nascenti, rubrica musicale a cura di Luca Vanz.